Ritorno all'appuntamento con i nostri consigli di lettura, anche questa settimana dalla libreria Padre Pio come sempre, i nostri telespettatori più affezionati ci seguono e insomma prendono anche appunti su quelli che sono i libri che vi consiglio, così in amicizia è il caso di dire. Allora, edizioni segno, Matteo Bevilacqua, Padre Pio e Fra Daniele, due anime gemelle, una bellissima immagine in copertina. L'autore ha raccolto le proprie testimonianze, quelle di Silvano Scampin, di Campo d'Arsego, siamo in provincia di Padova, amico intimo e frequente accompagnatore di Fra Daniele per oltre 30 anni. Leggiamo a pagina 127, la devozione per il Rosario, perché Fra Daniele come Padre Pio è stato un grande innamorato della Madonna del Rosario. Gesù stesso, quando lo chiamò a seguirlo nell'ordine dei Cappuccini, lo affidò alla madre sua. Sull'esempio di Padre Pio, Fra Daniele era talmente innamorato della Madonna e del Santo Rosario che aveva sempre la corona in mano e il più delle volte recitava il Rosario tenendola nascosta nella pettorina. Fra Daniele ha saputo trasmettere questo suo amore a tutte le anime che lo avvicinavano. Non si separava mai da loro senza aver prima recitato insieme il Santo Rosario e la Madonna, senza aver detto almeno un Ave Maria insieme e chiesto la sua materna protezione e benedizione. Ripeteva a tutti quello che tante volte aveva sentito da Padre Pio. Mi raccomando, recitate il Rosario e pregate con cuore questa dolce mamma. Una sera, Fra Daniele, poiché non riusciva a dormire, uscì nel corridoio e vista la luce che proveniva dalla porta socchiusa della cella numero uno, dedusse che Padre Pio era ancora sveglio. Bussò e appena dentro notò che il padre stava seduto a tavolino con la corona tra le mani. Padre ancora in piedi. Eh sì, figlio mio, sto recitando il Rosario. Meravigliato e incuriosito, Fra Daniele incalzò. Possibile, padre, che oggi non avete avuto il tempo di recitare il Rosario? Ne ho detti pochi, oggi non sono riuscito a dirne neppure trenta. Fra Daniele rimase sbalordito. Si damondò come facesse il padre a recitarne tanti, nonostante il suo desiderio e l'impegno assunto di onorare la Madonna. Egli al massimo era riuscito a dirne cinque o sei completi in un giorno. Pensò che di sicuro il suo amore alla Vergine Santissima non poteva essere paragonato a quello di Padre Pio e promise di migliorare e di intensificare la sua preghiera mariana. Poi temendo di non farcela riprese, padre, le mie preghiere e le mie sofferenze le affido a voi perché, fuse con le vostre, possiate offrire al Signore e alla Madonna, specialmente vi affido i miei rosari. Il padre li sorrise e annoi. Beh, questi e tanti altri episodi della vita di Fra Daniele Natale, anche con delle foto inedite, le trovate in questo libro, edizioni, segno, Padre Pio e Fra Daniele, due anime gemelle, firmato da Matteo Bevilacqua. Firmato da Padre Gabriele Amort, il mio rosario è edito dalla San Paolo. Padre Amort nell'introduzione dice Credo che il rosario sia la preghiera più potente dopo la Santa Messa e la Liturgia delle Ore. Basta leggere quanto a fondo ne hanno parlato i pontefici, da Pio V in poi. Vediamo un sunto nella prima appendice. Aggiungo anche che a questa preghiera secolare è stata colmata una lacuna da Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Da tempo si diceva che il rosario conteneva tutto il Vangelo, ma non era così, si saltava la vita pubblica di Gesù, poiché si passava dal quinto mistero della gioia, lo smarrimento di Gesù a 12 anni, al primo mistero del dolore, la preghiera di Gesù nel Gezzemani. Ha provveduto Papa Giovanni Paolo II, quando, dietro l'ispirazione della Vergine Santissima, ha inserito, dopo i misteri della gioia, quelli della luce, che riassumono tutta la vita pubblica di Gesù. In questo libro, dice Padre Amort, uno degli esorcisti più famosi e importanti al mondo, presento le mie riflessioni sui 20 misteri che recito ogni giorno. Spero possano essere utili, a quanti recitano il rosario, per meditare i singoli misteri. Dedico questo libro al cuore immacolato di Maria, da cui dipende l'avvenire del nostro mondo. Così ho capito da Fatima e da Meggiugorie. La Madonna, già nel 1917, a Fatima ha annunciato il finale. Alla fine, il mio cuore immacolato, trionferà Don Gabriele Amort. Padre Gabriele Amort, appunto, uno degli esorcisti più importanti e famosi della storia. Questo libro è intitolato semplicemente Il mio rosario, edito dalla San Paolo, firmato da Don Gabriele Amort. Il prossimo libro è una storia di rinascita di grande forza interiore, ma anche fisica, quella di Giuseppe Mainini, Bobo, un angelo a quattro ruote, edito dalla LDC. Racconta la storia di Mainini, classe 1952, dal 1973 pilota di rally, sport con cui ha conseguito importanti successi a livello internazionale e nazionale su diversi circuiti importanti. Nel 1998 è vittima di un incidente. Nel 2002 viene riconosciuto come primo pilota rallyista disabile e grazie all'amicizia con Alex Zanardi, che ha vissuto, in un certo senso, ecco un po' la sua stessa storia, oggi si dedica con successo all'hand bike. E nella prefazione si legge, Andrea Balzarotti scrive, quando Bobo mi ha raccontato l'idea di scrivere questo libro, conoscevo già la sua storia per sommi capi, ma mai avrei immaginato con il suo approfondimento di incontrare in essa un'esperienza in grado di cambiare la vita a quanti la leggono. L'esistenza di Bobo è uscita profondamente mutata dalle esperienze di vita che lui stesso ha vissuto in prima persona e raccoglierne le testimonianze facendole passare granello dopo granello insieme, ritornando sui suoi ricordi e sulle sue emozioni. È stato un percorso avvincente ed emozionante, se non addirittura formativo. La vita di Bobo era una vita come ce ne sono altre, costellata da soddisfazioni e dispiaceri che si alternano nel corso dei giorni, come accade per tante persone nel mondo. Eppure quello che ha avuto la forza di cambiare e stravolgere positivamente il suo essere è stato l'evento che gli ha permesso di riprendere a vivere, di rilanciarsi, di tornare a sorridere e a prendere le redini di quello che ancora desiderava essere. Bobo non si è mai abbattuto, è rimasto sempre in pista, anche con Relly si intende, e questa penso sia stata la sua grande energia, non smettere mai di credere che le cose possano mutare con la propria forza di volontà e costanza, con l'assistenza degli amici più cari e anche con un aiuto più dall'alto, conservando lo stupore per il mondo e la gioia di vivere. La storia di Bobo è reale come un diario, avvincente come un romanzo, piena di colpi di scena, di situazioni che mutano nel volgere della giornata, di passioni, intigri, difficoltà, gioie, dolori, speranze e voglia di crescere. Un modo per capire le parole di Luis Sepulveda, vola solo chi osa farlo, Andrea Balzarotti, che ha aiutato Giuseppe Mainini appunto nella stesura di questo libro, edito dalla LDC appunto, si intitola Bob un angelo a quattro ruote. E ormai da qualche settimana mi piace concludere con le storie di Bruno Ferrero, queste piccole storie per l'anima, che, ecco, come dire, aiutano attraverso una storia, un racconto, a lanciare un messaggio importante. Quello che vi voglio leggere, una storia riportata a pagina 40, intitolata Il Capitale. Un papà aveva passato la cera sulla carrozzeria dell'auto e ora la strofinava accuratamente per renderla splendente. Il figlio undicenne lo aiutava passando lo straccio sui paraurti. Vedi, ragazzo mio, diceva il padre, l'auto è un capitale della famiglia, dobbiamo dedicargli cure, attenzioni e tempo. Certo, papà, rispose il figlio. Ecco, bravo. E poi un momento di silenzio. Allora, io non sono un capitale della famiglia, mormorò piano il figlio. E perché, rispose il papà, perché tu non hai mai tempo per me. Sicuramente non è una storia che ha bisogno di commenti, questa che vi ho letto, però prosegue Bruno Ferrero facendo questa domanda. Qual è il tuo capitale familiare? Un mio amico ha un figlio fanatico della palla canestro. Al mio amico la palla canestro non è mai interessata, ma un'estate egli sacrificò le ferie per portare il figlio a vedere tutti gli incontri delle nazionali e campionati europei di palla canestro. Un viaggio che richiese oltre tre settimane e costò una bella cifra. Al mio amico fu chiesto al suo ritorno, ma davvero ti piace così tanto la palla canestro? Per niente, rispose, ma mi piace tanto mio figlio. Davvero molto bella questa storia, questo insegnamento che ci ha regalato Bruno Ferrero in questo libro, Il segreto dei pesci rossi, edito dalla LDC, la collana e piccole storie per l'anima. E allora, con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana. Appuntamento come sempre alla prossima per altri consigli di lettura.